buongiorno 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 e oggi è 24 gennaio sabato buon weekend buon weekend giornata ucciosa anche stamattina pioggia pioggia tutta la notte un saluto ai miei ai miei imitatori troppo bello troppo bello a me fa piacere a me faccio mi ha fatto una richiesta che l'accontenterò subito e si è brutto brutto quale chiove parlate è bello c'è bello quale chiove ma piccicolati via andrea via andrea via andrea ma c'è fatta chiesa ma te il veloce e niente io voglio ricordarvi che il 5 e il 5 febbraio sta quasi per arrivare voglio guardare come è solo per i fans di Pino Daniele a chi piaceva il grande Pino faremo un bel flash mob che ci divertiremo e ci divertiremo veramente e non ricorderemo come Cristo è stato un grande Pino ripeto chi vuole venire è invitato e niente stasar peggiatà zai peggiatà micchier peggiatà cummer c'è dov'affanare pizzi c'è dov'affanare pizzi c'è dov'affanare i serviti la rumanità è in teca scassa la rimbalza dai rimbalza è tornata a vola dei serviti ok ok e niente dai oggi apriamo anche una nuova rubrica la rubrica del proverbio del giorno spudenzì il gambeci rovin da bambitavist lelurius ciao 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 ciao